Spesso ci viene chiesto il motivo per il quale noi portiamo molta cura nel confezionamento dei nostri prodotti e soprattutto nella salvaguardia di quella che per noi è un requisito imprescindibile per la qualità di un prodotto e cioè la conservazione della catena del freddo. Questa è una grandissima sfida perché soprattutto nei negozi su strada la possibilità di interrompere la catena del freddo dal momento in cui il prodotto viene acquistato in questo store fino al momento in cui il prodotto arriverà nelle case delle famiglie nostri clienti per definizione ci sarà un'interruzione alla catena del freddo che può sembrare banale ma che invece inevitabilmente ha un impatto sul profilarsi della carica batterica. Una corretta confezione e una corretta conservazione della catena del freddo rimangono due requisiti fondamentali per contenere chiaramente la propisquità di questo fattore e garantire quindi la perseveranza della qualità di un prodotto anche a distanza di minuti e mettere quindi nella condizione le famiglie di non essere costrette a congelare un prodotto comprato fresco il giorno stesso in cui è stato comprato ma di poter invece contare in maniera marcata e affidabile su quella che la scadenza che noi indichiamo sulle nostre confezioni.